Benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa in cui affronteremo l'argomento relativo a quelli che sono gli oggetti in JavaScript. Gli oggetti sono un'entità che è molto utilizzata in Java, abbiamo già fatto riferimento a questo tipo di dati, parlando ad esempio dei metodi, delle stringhe, dei valori numerici. L'obiettivo a questo punto è capire meglio come funzionano gli oggetti e come possiamo noi andare a utilizzare direttamente gli oggetti per svolgere delle attività utili. In generale, quando parliamo di oggetti, facciamo riferimento a qualunque cosa compaia all'interno di JavaScript, perché qualunque entità che noi andiamo a manipolare, stringhe, array o altro, sono sostanzialmente dei particolari tipi di oggetti. Gli oggetti sostanzialmente hanno una caratteristica fondamentale, sono dei contenitori che hanno delle proprietà. Queste proprietà possiamo andare a leggerle e scriverle tramite due tipi di notazione. Una è quella col punto, la famosa dotted notation, e l'altra è quella utilizzando i subscript, ovvero con le quadre. Per cui, dato un oggetto di tipo stringa, ad esempio la stringa hello, noi possiamo andare ad accedere alla sua proprietà lunghezza usando la notazione puntata, quindi dicendo text.length, oppure usando gli indici o i subscript, quindi andando a mettere text e poi traquadre il nome della proprietà, quindi length. Entrambi ci danno lo stesso risultato, perché entrambe permettono di accedere esattamente allo stesso tipo di, alla stessa proprietà esattamente. Noi possiamo andare a creare gli oggetti in maniera enumerativa, quindi sostanzialmente possiamo andare a definire un oggetto in termini di nome e poi tra graffe l'elenco di quelli che sono le sue proprietà enumerate. L'enumerazione sostanzialmente prevede il nome della proprietà, due punti, attenzione, all'interno degli oggetti si utilizza i due punti e non l'uguale, questo è uno degli errori più comuni che vengono commessi andando a scrivere gli oggetti in tipo enumerativo, quindi ricordatevi, due punti all'interno degli oggetti, e il valore di quella proprietà per l'oggetto. A questo punto noi abbiamo un oggetto car che ha due proprietà che sono brand e power. Le proprietà possono essere tranquillamente aggiunte dopo aver creato un oggetto, quindi quando io vado a scrivere car.model uguale 500l, questa operazione sostanzialmente definisce una nuova proprietà che si chiama model e assegna con la proprietà il valore 500l. Stessa cosa ad esempio per la proprietà silver. Le proprietà possono essere cancellate, quindi quando io scrivo delete, oggetto.proprietà, sostanzialmente sto eliminando dall'interno dell'oggetto quella proprietà. È possibile andare a verificare se una proprietà è parte di un oggetto, quindi usando l'operatore in, quindi model in car, ci restituisce true se l'oggetto car ha una proprietà che si chiama model. Se la proprietà esiste, car.model ci restituisce sostanzialmente il valore, altrimenti il risultato è undefined. Quindi è come una variabile che io dichiaro ma non definisco, di cui non definisco il valore, e allo stesso modo se io ho un oggetto e cerco di accedere a una sua proprietà che non esiste, il risultato è undefined. Posso utilizzare gli oggetti tramite la capacità di accedere agli attributi, tramite la proprietà, tramite la notazione, tramite indice, come dei contenitori associativi. Ci sono diversi tipi di contenitori. Gli array sono semplici contenitori in cui io posso andare a mettere dei valori e a cui posso accedere tramite un indice. I contenitori associativi permettono di associare un valore a una chiave. Ad esempio, posso andare a memorizzare dentro un oggetto una serie di proprietà il cui nome corrisponde ad esempio al codice fiscale e il valore di quella proprietà corrisponde al nome e cognome della persona. Oppure, volendo complicare ancora, potrebbe corrispondere a un oggetto che contiene tutte le caratteristiche di quella persona. A questo punto, una volta che io ho il codice fiscale di una persona, posso utilizzare i subscript, ovvero le quadre, per andare ad accedere all'oggetto, al valore memorizzato all'interno dell'oggetto. Quindi, People, in questo caso, funge da contenitore associativo in cui le proprietà sono i codici fiscali delle persone e i corrispondenti valori sono il loro nome e cognome. Questa è una funzionalità molto utile perché molto spesso all'interno dei miei programmi io non voglio semplicemente accedere a un elemento di un contenitore tramite un suo indice, ma voglio poter, dato una chiave, recuperare il valore corrispondente e gli oggetti si prestano a questo tipo di utilizzo. Oltre a poter accedere direttamente a un attributo dato il suo nome, è possibile utilizzare un ciclo FOR. il costrutto FOR, IN sostanzialmente mi permette di andare a utilizzare il ciclo FOR per andare a scandire tutte le proprietà che compaiono all'interno di un oggetto. Quindi FOR, X, IN, PEOPLE sostanzialmente fa un ciclo su tutte le proprietà che si trovano all'interno dell'oggetto PEOPLE. A questo punto X di volta in volta assumerà il valore del nome della proprietà. Quindi nel nostro esempio precedente X, nel FOR X IN PEOPLE, andrà ad assumere per ogni iterazione un diverso codice fiscale. A questo punto posso poi andare a utilizzare l'accesso tramite indici andando a passare il valore X, che corrisponde alla chiave, per recuperare il nome e cognome della persona. Come dicevo, le proprietà potrebbero essere dei nomi a cui fanno riferimento altri oggetti. Per cui un modo abbastanza utilizzato in JavaScript di andare a memorizzare operazioni, insomma, dati complessi, è quello di andare a utilizzare un oggetto in cui ho una serie di chiavi e queste chiavi corrispondono a dei valori che sono a loro volta degli altri oggetti. Per cui, ad esempio, la prima chiave, RS, SM, RI, eccetera, corrisponde a un oggetto che ha due proprietà, LAST e FIRST, che corrispondono al nome e il cognome, o cognome e nome, delle persone. Ovviamente, a loro volta, all'interno di questi oggetti, io potrei avere delle proprietà che hanno come valori altri oggetti. Quindi il risultato è una struttura annidata di oggetti all'interno di oggetti e quindi mi permette di andare a descrivere una struttura molto complessa. A questo punto, io ovviamente posso, come al solito, accedere a una proprietà dato il suo nome, usando l'accesso tramite indici, quindi con le quadre, e una volta che ho il risultato, quel risultato, quindi People, SSN, sarà sostanzialmente un oggetto, uno di quegli oggetti, in particolare il secondo che vediamo nel codice sopra, quindi questo oggetto, e quindi su quell'oggetto potrà accedere a sua volta a quelli che sono le sue proprietà, quindi LAST e FIRST. Ad esempio potrò sutilizzare la notazione puntata, ma potrei anche utilizzare una notazione con le quadre, quindi avere un'altra coppia di quadri con all'interno la stringa LAST. Oltre alle proprietà, negli oggetti io posso avere i metodi. In realtà i metodi sono delle proprietà speciali, sono delle proprietà che hanno come tipo Function. Se vi ricordate, quando abbiamo parlato delle funzioni abbiamo detto che le funzioni possono tutto sommato essere trattate come valori qualunque, quindi io posso assegnare una funzione a una variabile, quindi quella variabile avrà come tipo un tipo Funzione, e quindi quella variabile potrà essere utilizzata per invocare la funzione, semplicemente andando a mettere le tonde per la chiamata Funzione. I metodi sono delle funzioni che sono proprietà, memorizzati come proprietà di oggetti, e quando vengono chiamati al loro interno hanno una variabile locale speciale che si chiama this e che permette di fare riferimento all'oggetto su cui sono state invocate. Esempio, car.show uguale function, eccetera, eccetera. Quindi show a questo punto, essendo di tipo Funzione, è considerato una proprietà. La funzione che cosa fa? Restituisce una stringa che contiene this is a, poi this.brand. Cosa vuol dire? Vuol dire che this è l'oggetto su cui è stata chiamata la funzione, o meglio, il metodo. Quindi, se io scrivo car.show, quel metodo show andrà a prendere la proprietà brand dell'oggetto su cui è stato chiamato e andrà a recuperare il valore e sostanzialmente lo va a concatenare con questa stringa, con uno spazio e poi con un altro elemento che è il valore dell'attributo model dell'oggetto su cui viene chiamata. Per cui, quando vado a chiamare car.show, dove car è l'oggetto che abbiamo creato nei passaggi precedenti, ovviamente brand sarà Fiat e model sarà 500L. Per cui, il risultato di questo metodo è this is a Fiat 500L. Perché? Perché prendo l'oggetto, vado a invocare il metodo utilizzando questa notazione puntata. Quindi, sostanzialmente, car.show, se ci limitassimo a car.show senza mettere le tonde, sarebbe un modo di accedere al valore dell'attributo, della proprietà, scusate, show, all'interno dell'oggetto car. Quella è una funzione, quindi avremmo il codice della funzione. In realtà noi vogliamo andare ad eseguire quel codice e quindi andiamo a mettere le tonde. Le tonde, sostanzialmente, oltre ad accedere alla funzione, che in questo caso è un metodo perché viene chiamata appoggiandosi a un oggetto, eseguono la funzione, quindi eseguono l'istruzione che vediamo sopra e quindi andrà a restituire la concatenazione di una stringa e del valore di alcune proprietà dell'oggetto su cui è invocato. Per creare gli oggetti io posso utilizzare, l'abbiamo visto prima, quello che si chiama enumerazione delle proprietà, altrimenti detto una definizione letterale, oppure posso utilizzare quello che si chiama l'operatore new. Quindi new utilizza quello che si chiama il costruttore degli oggetti, object, e quindi andrà a creare un oggetto vuoto. Dopo aver creato l'oggetto io posso andare ad assegnare dei valori a degli attributi che, non essendo presenti prima, verranno creati nel momento in cui assegno un nuovo valore. In generale io però posso andare a creare funzioni diverse da object che possono funzionare come costruttori. I costruttori sostanzialmente cosa fanno? Sono delle funzioni come le altre, che hanno dei parametri e semplicemente inizializzano le proprietà dell'oggetto che devono costruire con dei valori che normalmente sono quelli presi dai parametri. A questo punto, utilizzando il valore speciale, quindi il riferimento speciale all'oggetto corrente e dis, questa classe, scusate, questa funzione costruttore può andare a inizializzare un oggetto. Quindi quando io uso new car, che cosa faccio? Creo un oggetto, chiamo quel metodo costruttore a cui passo dei parametri e all'interno di quel metodo l'oggetto che è appena creato verrà inizializzato con istruzioni di questo tipo. Quindi il risultato a questo punto sarà creare un oggetto che si chiama car che ha tre attributi, brand, model e color, che sono inizializzati a partire dal valore di questi tre parametri, quindi Fiat, 500L e Silver. Un altro modo di andare a creare le classi è utilizzando quella che si chiama la parola chiave class, che è stata introdotta nelle ultime versioni di JavaScript, quindi nel ES5. Quindi è abbastanza diffuso, anche se non è supportato universalmente da tutti i browser. La parola chiave class permette di andare a definire quello che è una nuova tipologia di oggetto, che si chiama classe, e all'interno della coppia di graffe andare a descrivere come è fatta quella classe di oggetti. Ci sarà un costruttore, quindi è quello che viene chiamato quando faccio new il nome della classe, cui passerò questi tre parametri, quindi sostanzialmente questo si comporta esattamente come il costruttore che abbiamo visto prima, e ci saranno eventualmente dei metodi, ad esempio il metodo show, che di nuovo si comporta esattamente come prima. Quindi questa classe auto è sostanzialmente analoga a quella che io posso andare a creare con questa funzione costruttore car, perché ha tre attributi, scusate, tre proprietà. A questo punto, una volta che io ho definito una classe, posso tranquillamente andare a utilizzare new il nome della classe, questo andrà a chiamare il costruttore, che inizializzerà le tre proprietà del nuovo oggetto che ho creato, e quindi quando andrò a chiamare il metodo show, che è sempre definito dentro la classe, qui, verrà eseguito il metodo, quindi verrà eseguita questa istruzione che utilizzerà il riferimento this, che punta all'oggetto su cui è stato chiamato quel metodo, per andare a restituire i valori. Sostanzialmente, rispetto all'uso delle funzioni costruttore, la parola chiave class mi permette una notazione un po' più compatta che sta tutta in un unico blocco di codice, altrimenti dovrei andare a spezzare la definizione dei attributi, poi la definizione dei metodi, eccetera, quindi in questo caso è un po' più ordinata, è un po' più compatta rispetto a una definizione alternativa. Un'altra caratteristica che io posso utilizzare sfruttando la parola chiave class è di andare ad accedere alle proprietà non direttamente, ma tramite dei metodi che permettono di leggere e scrivere le proprietà. Questo che cosa mi dà? Mi dà sostanzialmente un vantaggio, perché io posso andare a fare delle operazioni di controllo, di conversione, quello che voglio, nel momento in cui leggo o scrivo una proprietà. Per cui, quando io metto un getColor, significa che dall'esterno io vedrò color come una proprietà che posso andare a leggere e sostanzialmente andrò a restituire il valore di un'altra proprietà. Il metodo 7 che cosa fa? Se i colori validi includono quello che io sto cercando di assegnare, bene, altrimenti stampo un messaggio d'errore. Quindi, nell'andare a leggere, nell'andare a scrivere, io posso fare tutte le operazioni che voglio, di controllo, filtraggio, conversione, eccetera. Per cui, ad esempio, in questo caso, nel momento in cui cerco di andare a creare un oggetto con il colore purple, avrò un messaggio d'errore che è invalid color purple. Quindi, quando cerco di creare un nuovo oggetto, item, passandogli il colore purple, anche qui, a maggior ragione, avrò una segnalazione d'errore e il colore non sarà impostato, quindi non avrò un valore e quindi il risultato che otterrò cercando di accedere al colore è undefined. JavaScript definisce un grande numero di costruttori all'interno del linguaggio predefiniti che sono quelli che vediamo in questo slide. Sostanzialmente abbiamo object, che è quello che abbiamo visto, che sostanzialmente può anche essere chiamato in maniera abbreviata utilizzando una coppia di graffe. Array, quindi io posso fare new array oppure posso fare quadre, che è la stessa cosa. Le espressioni regolari, di cui non abbiamo ancora parlato, ma su cui vedremo poi in futuro. Ho anche un costruttore di function, quindi io posso andare a costruire un oggetto function passandogli come parametri, il nome e i parametri e il corpo, oppure in alternativa posso utilizzare la parola chiave function, la tonda per i parametri e la graffe per il corpo. Ho una classe, un costruttore che si chiama date, di cui abbiamo parlato brevemente, un costruttore string, che è sostanzialmente la stessa cosa che andare a chiamare una stringa con i doppi apici, number, in cui posso utilizzare zero, boolean, in cui posso andare a utilizzare true o false. In generale, quando utilizzo direttamente questi valori, quindi le virgolette, il numero, oppure i valori true e false, ho delle prestazioni un po' migliori rispetto ad andare a chiamare direttamente la funzione costruttore. Quindi questo ci dà una piccola panoramica su ulteriori aspetti di quello che è il linguaggio JavaScript. In realtà il linguaggio JavaScript contiene molti altri aspetti che sono interessanti ed è bene tenere in considerazione e su cui è importante fare una panoramica generale. Questi sono degli aspetti che ci permettono di andare a scrivere dei programmi che vanno oltre poche funzioni e che io chiamo programmi in the large. Una di queste caratteristiche sono le eccezioni che rappresentano un meccanismo per andare a gestire le anomalie andando a disaccoppiare quello che è il momento in cui io rilevo un'anomalia e il momento o il codice in cui io vado a gestire questa anomalia. Quando incontro un errore, se utilizzo le eccezioni devo andare a utilizzare la parola chiave throw e poi un messaggio oppure un oggetto più in generale che contiene le informazioni relative all'anomalia che ho rilevato. A questo punto come faccio a intercettare l'anomalia? Lo posso fare utilizzando un blocco try e catch. All'interno del blocco try metto una funzione che potenzialmente può lanciare un'eccezione e poi nel blocco catch vado a mettere il codice che viene eseguito nel caso in cui venga generata un'anomalia. Per cui se io ho delle funzioni o dei metodi che possono generare delle anomalie quello che faccio per andare a intercettare progettare le eccezioni è di andare a chiudere in un blocco try e poi scrivere un blocco catch che in qualche modo gestisce l'anomalia. Il punto è che il blocco try potrebbe non chiamare direttamente la funzione che genera l'anomalia ma potrebbe chiamare un'altra funzione la quale a sua volta chiama la funzione che genera l'anomalia. L'eccezione viene lanciata viene fatta risalire chiamata sopra chiamata affinché non si incontra il blocco try e in questo caso viene eseguito il catch corrispondente. Non vado oltre sulle eccezioni perché l'importante è giusto sapere che esistono non andremo a scrivere codice che usa le eccezioni o che le lancia ma sappiate che per gestire anomalie in maniera complessa ci sono le eccezioni in JavaScript. Un altro aspetto interessante riguarda quelli che sono i parametri che io posso passare a una funzione funzione normale o metodo. In generale in JavaScript il fatto che io abbia elencato una serie di parametri in una funzione sostanzialmente non vuol dire nulla il compilatore comunque in fase di esecuzione non viene verificato che effettivamente a una funzione dichiarata con tre parametri vengano passati proprio tre parametri. La chiamata viene accettata tranquillamente. Qual è il risultato? È che se la funzione specifica tre parametri e io ne passo soltanto due il terzo quello che non ho passato avrà come valore undefined. Per cui la funzione double che avevamo definito precedentemente che sostanzialmente moltiplica per due il valore del parametro che gli viene passato quando viene chiamata senza parametri sostanzialmente riceve come valore undefined. Questo punto restituisce due per un valore che è undefined il risultato è not a number quindi in questo caso il nostro codice sarà not a number per poter trattare un numero variabile di parametri io ho all'interno di ogni funzione un oggetto particolare che si chiama arguments che contiene tutti i parametri che sono stati passati alla funzione per cui io posso utilizzare argoment.length che in pratica si comporta come un array argoment.length che mi restituisce il numero di parametri passati che possono essere di meno esattamente uguali oppure di più rispetto a quelli che ho specificato nella dichiarazione della funzione i parametri che hanno un nome nella dichiarazione li posso utilizzare normalmente eventualmente potrebbero essere undefined i parametri in più li posso andare a leggere utilizzando l'indice per l'oggetto argoment quindi andando a recuperare l'ennesimo l'n più unesimo parametro andando a specificare la posizione di quel parametro quando i parametri non sono passati come vi ho detto il risultato è che viene passato un valore undefined quindi se io voglio andare a verificare che un certo parametro sia stato passato posso confrontarlo con undefined attenzione che ci sono sempre coinvolte in questi casi delle conversioni quindi è opportuno andare a confrontare b con undefined utilizzando il triplo uguale cioè quel confronto che evita qualunque tipo di conversione perché ovviamente undefined è un valore che viene interpretato come falso per cui se b fosse un valore booleano con valore falso b se non utilizzo un confronto privo di conversioni potrebbe darmi un risultato true un'altra possibilità quando voglio avere a che fare con parametri che non vengono effettivamente passati è sfruttare quelli che sono i valori di default quindi quando io definisco una funzione posso assegnare un valore di default che è il valore che verrà passato come quel parametro se nella chiamata quel parametro non viene definito e quindi questo mi permette di andare a svolgere una serie di semplificazioni rispetto a controllare se il parametro è undefined se è undefined assegnare un valore automaticamente quello che viene fatto in questo caso utilizzando if b uguale uguale undefined cioè assegnare a b il valore 1 nel caso in cui non venga passato automaticamente viene fatto andando a definire il valore di default per cui la nostra funzione increment se viene invocata senza parametri avrà a uguale a 0 e b uguale a 1 se viene invocata con un unico parametro questo sarà ovviamente a e quindi a sarà b uguale a 10 e b uguale a 1 se viene passata con i due parametri ovviamente questi saranno a e b quindi questa caratteristica di avere i valori di default è molto comoda attenzione che è stata introdotta in ES6 e quindi non è universalmente supportata dai browser ovviamente supportata nei browser più recenti ma non in tutti una parola su quelli che sono le convenzioni di codice allora in generale quando io ho dei nomi composti per le variabili la notazione che si utilizza è quella del camel case ovvero invece di mettere l'andescore tra due parole che compongo un identificatore inizio la seconda parola con una maiuscola tutti i nomi di variabili iniziano con una lettera e in generale quando ho degli operatori di assegnamento aritmetici eccetera è buona norma se scrivo in java di mettere degli spazi attorno e quando devo indentare si utilizzano quattro spazi un'altra cosa importante da ricordarsi quando si programma in javascript è di utilizzare i nomi giusti per i file per cui il file che contengono del codice javascript dovranno avere come estensione js quelli che contengono del codice css css e i file html con quell'estensione in modo che sia chiaro qual è il contenuto di un file di nuovo non è estrettamente necessario nel senso che io posso mettere del codice javascript in un file che si chiama txt il punto è che poi è difficile andare a capire qual è il ruolo di quel file nel contesto e quindi complico la vita a chi deve andare a capire e eventualmente manutenere il codice che ho scritto infine vorrei menzionare il fatto che utilizzando una notazione che si chiama jsdoc è possibile andare a documentare le funzioni e questo poi può essere utilizzato per andare a creare documentazione in maniera automatica a partire del codice javascript utilizzando la sintassi che vediamo qua in particolare iniziando i commenti con la sequenza slash star star e andando a descrivere quelle che sono le funzionalità svolte dalla funzione e successivamente andando a specificare quelli che sono i parametri con questo chioccio la param il tipo del parametro in questo caso un numero e poi il nome del parametro e poi si mette uno spazio trattino spazio seguito da una descrizione di quello che è il significato di quel parametro ovviamente questa è la caratteristica fondamentale base delle documentazioni jsdoc ci sono molte altre caratteristiche che potete poi trovare nella documentazione online di questa notazione con questo abbiamo sostanzialmente esaurito quelle che sono le caratteristiche fondamentali di javascript ci sono ancora alcuni aspetti che però tratteremo più avanti quindi a questo punto abbiamo gli elementi fondamentali che ci permettono di scrivere del codice di base che ci sono